bene quindi sabato dice avvenaria giusto senti parliamo intanto del di come è avvenuto questo accordo per la partita insomma avete dovuto muovere insomma una certa macchina organizzativa per affrontare una parte di questo tipo allora sì non è stato semplice anche perché noi abbiamo un anno di vita un poco più di un anno di vita come associazione onlus e quindi tanta inesperienza da affrontare per riuscire a realizzare questo evento ci siamo appoggiati a persone appunto che sanno sanno come muoversi nel mondo degli eventi tipo appunto munca pazza che ne organizza tanti sulla città di torino abbiamo avuto un appoggio fondamentale da parte del comune di venaria che ci ha messo a disposizione l'impianto sportivo lo stadio d'ommosso di proprietà dell'ASM gentilissimi appunto a darcelo senza non ci hanno pensato due volte insomma a metterci a disposizione l'impianto l'accordo è stato molto semplice da raggiungere nel senso che dopo che ci siamo conosciuti il 14 aprile con Bea Stefania e Ale è nato subito il desiderio di cercare di renderci utili per la causa avevamo provato a far fare un giro allo Juventus stadio un giro di campo a Bea in occasione della partita del cuore ma mille problemi burocratici non ce l'hanno permesso di conseguenza diciamo che abbiamo provato a mantenere la promessa fatta di dare un po di visibilità a Bea e gli abbiamo creato un evento apposta per lei l'evento è una partita di pallone ma non solo perché sarà uno spettacolo all'interno dello sport perché siamo riusciti a coinvolgere in questa partita i ragazzi di amici di canale 5 che hanno dato immediata disponibilità a partecipare e i ragazzi alla fine dell'incontro i ragazzi di amici alla fine dell'incontro faranno uno spettacolo di ballo e canto e sarà uno spettacolo molto particolare perché sarà uno spettacolo interattivo con il pubblico presente praticamente chi sarà spettatore di questo evento potrà tra virgolette chiedere cosa cosa vuole vedere da da questi artisti della televisione noi nel nostro picco cercheremo di animare tutto l'evento con delle coreografie molto molto carine molto belle abbiamo fatto fare dei palloncini delle bandierine ci saranno animatori per i bimbi insomma deve essere una giornata di festa e soprattutto deve essere una delle giornate più belle di bea insomma una di quelle cose da ricordare tutto quello che abbiamo fatto è per lei quindi lei è la unica protagonista della giornata e vogliamo che sia felicissima di questa questa festa ecco dunque come tutte queste iniziative ovviamente c'è un biglietto il costo simbolico insomma però è chiaro che tutto questo contribuisce ad insomma ad aiutare la la piccola vea e ovviamente le organizzazioni che si stanno prendendo carico ecco parliamo della allora dei biglietti chi fosse interessato a chi si deve rivolgere dove può acquistarli innanzitutto appunto il biglietto ha una cifra veramente accessibile a tutti nel senso che sono sei euro per la tribuna è appunto una cifra simbolica la cifra simbolica perché fare volontariato non significa solo spendere del denaro fare beneficenza significa dedicare anche del tempo che poi alla fine è la cosa più difficile da trovare quindi noi vi chiediamo veramente una un'adesione importante a questo evento da cercare di riempire l'impianto perché poi alla fine sono il tutto esaurito quello che fa riuscire alla festa per le coreografie per la visibilità che ha diciamo la manifestazione i biglietti si possono comprare nei quattro punti vendita che sono a pieno regime in questi giorni che sono i tre ristoranti mucca pazza di torino uno in via viotti 8 in centro l'altro a strada tra fuori di pino 23 e diciamo il terzo il più comodo vicino all'impianto che è a venaria in corso garibaldi 155 e presso il negozio love cake che sito in via servais 37 barra ecco io intanto gli ho evidenziati in video quindi i telespettatori possono spero che si riesca a leggere da casa ma credo proprio di sì insomma blu sul sul bianco insomma lo vedete dunque tre punti vendita in torino ristoranti mucca pazza via viotti 8 tra fuori del pino 23 a pino torinese e venaria reale corso garibaldi poi c'è ancora un negozio a love cake via servais allora io qua ho tra l'altro una ecco voi avete fatto la presentazione mi pare in comune a venaria ecco quindi abbiamo anche qualche dichiarazione qua nelle guna leggiamo insieme che siamo onorati di aver sponsorizzato questa iniziativa ha affermato fulvio castellaro amministratore delegato di mucca pazza che tra l'altro giocheremo in casa in ogni caso comunque vada sportivamente la partita a vincere sarà la piccola bea dunque questa è una delle dichiarazioni insomma vi rende onore l'aver contribuito e contribuire insomma ad aiutare una una bimba da questa malattia diciamo che noi come associazione ci occupiamo proprio di bambini in difficoltà perché i bambini 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 sono il futuro sono il nostro futuro quindi ci piace pensare che un domani tutto quello che abbiamo fatto per loro siano poi loro loro volta a farlo per bambini più sfortunati ce la mettiamo tutta in un anno abbiamo già perseguito dei risultati importanti comunque abbiamo portato a termine già sette missioni ci occupiamo fondamentalmente di case famiglia ma non solo anche di casi isolati beane è un esempio cercheremo sempre di migliorarci anche perché fare del bene non è semplice quello che quello che l'unica cosa di cui noi abbiamo bisogno è di essere conosciuti e che tanta gente possa credere in noi in quello che facciamo per accompagnarci nei nostri eventi che più delle volte tra l'altro non sono eventi se fine se stessi noi cerchiamo sempre di offrire del divertimento in tutto quello che si fa che sia la partita di calcio che sia una cena che normalmente sono delle cene a tema tipo la cena di natale insomma abbiamo sempre preparato degli spettacoli all'interno dei nostri eventi pur non essendo nessuno di noi un artista pur non essendo nessuno di noi un calciatore insomma cerchiamo di fare del nostro meglio per perché ogni evento sia comunque una festa per tutti bene dunque non abbiamo parlato forse dell'orario perché poi adesso girando navigando su internet vedo si giocherà almeno il fischio d'inizio e alle 16 giusto però insomma prima è chiaro che arrivare prima sì perché prima della partita ci sarà la presentazione degli amici del mondo di bea che è l'associazione appunto che i genitori di bea vanno a presentare ufficialmente ed è un'associazione molto importante perché oltre a prendersi cura di bea per volontà di stefania ale sarà comunque un punto di riferimento di tanti altri bambini speciali come bea che necessitano comunque di visibilità e di cure quindi è un'associazione una di quelle associazioni sane belle diciamo del volontariato puro che è tanto in italia che quindi va seguito e va appoggiato sempre comunque quindi sicuramente i cancelli verranno aperti alle 14 30 quindi arrivate prima anche perché prima arrivate prima mi insegniamo tutte le coreografie iniziamo conoscerci è bello dai siamo tutti in famiglia ecco intanto sto navigando ecco sul sito della dell'associazione italiana dell'amicizia nidaunlus dunque www.nidaunlus.it questa foto è la vostra squadra si questa è in occasione di un torneo giocato a follonica dove noi siamo molto molto amici e collegati alla serie saud dei sacerdoti anzi diciamo che nasciamo un po da esperienze fatte con loro in occasione del triste terremoto in abruzzo del 2009 quindi da lì abbiamo iniziato a mettere le basi per quella che è la nostra associazione il capitano in azione? porca miseria è passato ma eri tu questo? ero io ero io allora vediamo se vado bene solo nei fermi immagini la velocità è la stessa anche nel sì sì è così anche dal view ecco qua in quell'evento lì per l'esattezza abbiamo contribuito a costruire un campo di calcio in palestina per i bimbi palestinesi e avvicinarli al mondo dello sport abbiamo anche una pagina facebook che è molto 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 aggiornata che è molto più facile da lavorarci sopra piuttosto che sul sito ed è in nazionale italiana dell'amicizia noi lì scriviamo ogni cosa che ci capita e cerchiamo proprio di interagire con chi ci segue nella maniera proprio live più possibile abbiamo già tanti abbiamo ricevuto già tanti mi piace ed è un attestato di stima che ringraziamo tutti quelli che appunto stanno credendo in noi in quello che facciamo vediamo che crescono di giorno in giorno speriamo di aumentare anche perché più persone si seguono più bambini riusciamo ad aiutare ecco dunque al di là dell'affluenza che si spera importante per la partita per questo spettacolo di veneria chi volesse chi non fosse possibilitato a venirvi a vedere ma volesse comunque dare il suo contributo da casa o da qualsiasi parte c'è la possibilità di raggiungervi innanzitutto per aiutare Bea è facilissimo perché ha una pagina su facebook che è visitatissima ed è il mondo di Bea quindi chiunque volesse aiutare direttamente Bea può farlo scrivendo in posta privata sulla pagina della bimba chi volesse aiutare Bea tramite noi può scriverci in posta privata appunto sulla pagina della Nazione Italiana dell'amicizia c'è la possibilità di fare bonifici noi tutto quello che praticamente incasseremo da tante persone in Italia che non possono venire a veneria per ovvi motivi sono state già diverse le persone che ci hanno scritto tutto quello che comunque è la vendita di biglietti che siano effettivi che siano virtuali sarà tutto per la piccola Bea una cosa che ci tengo a dire riguardante questa manifestazione è che tutte le persone che abbiamo interpellato hanno dato immediata disponibilità ma da tutto da quello che possono essere il comune di Venaria quello che può essere l'ultimo dei ragazzi che ci sta aiutando faccio l'esempio un ragazzo Giuseppe Cariello che arbitrerà l'incontro appena saputo di questa partita ha dato immediata disponibilità coinvolgendo collaboratori è bello vedere che tutti proprio dall'A alla Z stanno collaborando e dando tutto loro stessi ci sono persone che non conoscevo come Davide Di Noto che ha sponsorizzato con la sua azienda di Fluid con una grossa somma di denaro sulla fiducia ed è questo bellissimo io trovo molto bello questo interagire con noi con quello che stiamo facendo anche perché abbiamo ricevuto patrocini importanti come la FIGICI, il CONI, il Comune di Torino la provincia di Torino, la regione Piemonte, il Comune di Venaria che sono per noi comunque un attestato importante ne siamo fieri vuol dire che la gente incomincia veramente a credere in quello che stiamo facendo questo mentre tu parli mi sto dilettando tra le pagine vediamo qualcosina questo è una cosa ci tengo allora aspetta che ve lo faccio proprio vedere con orgoglio perché questo è un lavoro che i ragazzi della Nazionale hanno fatto con un impegno clamoroso nessuno di noi è un editore, nessuno di noi è un grafico, nessuno di noi è un giornalista però abbiamo dedicato la nostra estate a fare un magazine dove si parla di noi, si parla di BEA si parla dell'evento, si parla di chi ha collaborato per rendere possibile tutto questo lo stiamo distribuendo gratuitamente in tutta Torino e Cintura anzi se ci date una mano distribuirlo perché sono tantissime copie e i giorni scarseggiano comunque la cosa che alla fine ci tengo veramente a sottolineare è che tutti i ragazzi di questa associazione sono dei fuori classe, ma sono dei fuori classe nella vita, non nel campo perché sono dei ragazzi d'oro che tra l'altro è quello che conta, essere fuori classe nella vita sicuramente, la partita fino a se stesso è una scusa per cercare di portare un po' di gente allo stadio ma quello che conta poi è avere la fortuna di conoscerli questi ragazzi, di poterli frequentare io sono onorato di essere loro amico perché sono persone splendide bene, noi abbiamo visto, dunque, chi volesse aiutarvi a distribuire cosa deve fare? beh, se ci contatta in posta privata nella Nazionità dell'Amicizia gli diamo un bel plico di magazine, si mette al semaforo con noi e li mette in macchina dei passanti siamo sicuri che il magazine non viene spregato, tutti lo possano leggere anzi, noi abbiamo persino fatto una piccola postilla dove abbiamo scritto non buttarmi quando è finito di leggermi passami ad un amico così aiuteremo un altro bimbo a sorridere questo per noi è stato un duro lavoro credetemi, non siamo professionisti, non siamo del campo riuscire a scrivere 32 pagine di noi e di cosa facciamo non è stato semplice abbiamo cercato di farlo in maniera simpatica ci sono delle fiabe, ci sono delle interviste, ci sono tante storie belle da leggere quindi fate girare questo magazine, è un modo per far conoscere noi per far conoscere Bea, per far conoscere quello che si sta facendo ho visto che hai portato anche un altro gadget sì, allora, nelle varie cose che ci saranno sabato allo stadio abbiamo anche tutto il nostro merchandise come le vere squadre di calcio che si può acquistare allo stadio questa si può acquistare, poi abbiamo fatto una sciarpa che è il double fast con la bandiera italiana da parte il nostro nome e dall'altra parte la bandiera della pace che per noi è un simbolo importantissimo con la scritta un mondo di amici per un mondo migliore che è uno dei nostri slogan ci saranno polo, ci saranno magliette, cappellini soprattutto tante magliettine t-shirt per bambini che sono carinissime con la nostra tartanida che è la mascotte dell'associazione bene, tutto questo sarà acquistabile si può contribuire in varie forme diciamo per tutto, per tutto quello che si sta facendo parliamo dei vostri avversari dunque un'incognita grossa un'incognita abbiamo qualche nome, qualcuno? sì, allora, adesso ricordarli tutti sinceramente anche perché ci deve essere scritto da qualche parte però faccio volentieri il nome di Amnesia che è un ragazzo di Torino che ha partecipato alla conferenza stampa che si è tenuta in comune a Venaria e che tra l'altro sta preparando una sorpresa molto importante quindi non posso fare nessun tipo di anticipazione i ragazzi di Amici sono un'incognita io li ho affrontati qualche anno fa proprio nel terremoto in Abruzzo erano stati abbastanza ostici da affrontare speriamo che nel frattempo siano invecchiati anche loro e sia più semplice noi abbiamo provato a fare un po' di preparazione siamo un po' stremati dalla preparazione dell'evento quindi hanno un grosso vantaggio che ci troveranno sicuramente molto stanchi però l'intento è chiaramente quello di vincere una partita di pallone quindi nel momento in cui l'arbitro fischia poi amici fino al novantesimo non ce ne sono più comunque vi siete preparati sì sì, su delle sere andiamo a correre lungo il po' quindi se volete venire a correre con noi stile Rocky ci manca la musichetta poi magari troviamo il modo di mettere anche quelli va bene allora staremo a vedere ma soprattutto è chiaro che al di là di questo è bello condividere con tutti quanti questo primo derby dell'amicizia sì, il primo la numerazione indica che ce ne saranno altri? beh, è stato proprio messo apposta il primo perché nonostante la difficoltà a organizzare questo evento è sicuramente idea e volontà di farne tanti altri possibilmente magari neanche aspettare l'anniversario perché sia il secondo noi siamo a disposizione proprio per cercare di aiutare in giro per l'Italia più bimbi possibile è chiaro che da soli non possiamo salvare il mondo ma come ci piace ricordare tutti assieme possiamo renderlo migliore tutto questo ricordiamolo per un fine benefico insomma per aiutare Beatrice, Bea questa bambina di quattro anni se non ho derrato quattro anni sì, una bambina che dovreste vederci io ho la fortuna di essere amico ho la fortuna di tenerla in braccio è una bambina splendida cioè io sono totalmente innamorato di Bea e della loro famiglia della sua famiglia perché sono persone che quando ci siamo avvicinati ci siamo avvicinati con l'intento di dare qualcosa in realtà dal 14 aprile che li abbiamo conosciuti è molto più quello che abbiamo ricevuto da loro Stefania e Alessandro sono due ragazzi giovani che hanno una forza e una gioia nonostante tutto che è commovente io ogni minuto che passo con loro capisco che alla fine poi bisogna sempre sorridere in qualsiasi caso nella vita perché se riescono loro con quello che devono affrontare tutti i giorni non dovrebbero esserci persone tristi soprattutto nella nostra società che è una società molto privilegiata io li ammiro io ammiro Alessandro e Stefania veramente sono due esempi di ragazzi dovete venire sabato anche solo per conoscere loro perché sono un insegnamento di vita nel loro problema si sono uniti sono una famiglia meravigliosa veramente sono vi invito a venire anche solo per conoscere loro perché sono fantastici ecco ricordiamo per chi si ponesse soltanto adesso la funzione di questo appuntamento ecco Bea è una bimba che è nata non male poi dopo dopo pochi mesi è insorta questa malattia piuttosto particolare tra l'altro non si capisce tanto e non c'è neanche un nome a dire non c'è un nome perché oggi è l'unico caso al mondo certificato tante televisioni si sono già interessate al loro caso anche perché l'interesse della famiglia ovvio è la ricerca ma è anche la possibilità di dare visibilità alla loro bimba e a questa malattia nella speranza che da qualche parte in giro per il mondo qualcuno possa fare qualcosa per lei non si hanno dei parametri purtroppo navigare al buio a volte è la cosa più complicata perché non sai mai a cosa vai incontro possono essere le difficoltà le speranze quindi è importantissimo che se ne parli il più possibile perché se da qualche parte nascosto in qualche meandro più remoto del pianeta se qualcuno potesse aiutare Bea e riusciamo a scovarlo abbiamo vinto tutti sicuramente già così il derby è vinto adesso deve vincere Bea che è la cosa più importante certo io mi sono permesso di sottolineare e lo riporto all'attenzione un passaggio di questo articolo preso da internet uno dei tanti articoli che parla di voi ecco Beatrice ha 4 anni è affetta da una malattia che non ha ancora un nome ma la costringe a lottare contro una grave e progressiva calcificazione delle articolazioni la chiamano un po' la bambina di pietra tra virgolette bambina di statua proprio perché purtroppo è totalmente rigida quindi non può muoversi ecco la mamma già solo per vestirla ha un lavoro che cioè quello è veramente un lavoro ecco la bambina però è utile ricordare che è lucidissima ha voglia di di lottare ha una gioia incredibile mangia in una maniera che se ti dimentichi un pezzetto da parte ve lo fa sparire no? è bellissimo è bellissimo stare assieme a lei perché è una bambina che vuole che vuole la sua vita normale e noi dobbiamo fare tutto il possibile per dargliela questa parte come è giusto che sia d'altra parte è giusto che sia allora andiamo ancora a vedere se ci riesco eh non è sempre allora ecco qua di nuovo su internet forse non si vede la prima parte comunque primo derby dell'amicizia per Beatrice Naso a Venaria reale sabato 21 settembre presso lo stadio Don Nosso allora noi siamo quasi agli sgoccioli di questa nostra chiacchierata sì allora tanto eh vorrei ribadire il tutto per insomma per anche per sottolineare l'importanza di questo evento che non è soltanto la classica partitella ma è una partitella che è un un incontro un incontro trattino spettacolo insomma visto che ci sono anche eh la Nazionale Amici di Maria presente un incontro spettacolo a fine benefico dunque ricordiamo allora eh l'appuntamento quindi la location per chi volesse venirvi a vedere e a contribuire allora il derby si giocherà allo stadio Don Mosso di Venaria in via San Marchese 23 i cancelli saranno aperti dalle 14.30 la partita inizierà alle 16 arrivate prima perché ci sarà tutta la presentazione dell'associazione Gli Amici del Mondo di Bea ci saranno delle coreografie degli spettacoli anche prima dell'incontro nell'intervallo ci saranno altre sorprese con il cantante Amaru che canterà un pezzo del suo repertorio ci sarà un'estrazione a premi insomma è un è impossibile un giorno pensare ho saltato il primo derby dell'amicizia quindi venite in tanti ci sono ancora dei biglietti per fare tutto esaurito ci sono rimasti per fortuna pochi però bisogna assolutamente riempire la struttura bene allora ricordiamo anche dove si acquistano i biglietti giusto per chi volesse fare un salto e prenderlo in extremis allora i biglietti si acquistano nei tre ristoranti intanto io scusa se ti interrompo intanto faccio vedere ancora la pagina facebook per chi volesse contattare direttamente da facebook il mondo di Bea se no c'è anche la nostra che li faccia andare a fare che adesso la rivediamo nel frattempo allora i punti vendita per i biglietti questi sono i tre ristoranti in mucca pazza di cui uno a Pino in strada tra Prolipino 23 uno in via Diotti in centro e l'altro a Gainaria in Corso Garibaldi e Love Cake in via Servais 37 barra A se no potete contattarci sempre nella pagina della stanza dell'amicizia se avete dei dubbi noi vi dirigiamo insomma dalla questione di questi io mi sto perdendo eccolo qua ho sbagliato leggermente ma adesso ci arriviamo semplicissimo per chi volesse anche tenersi informato da Google o da qualsiasi motore di ricerca nida on loose questo è eccolo qua la vostra home page poi c'è una pagina che è molto importante sulla pagina Facebook che comunque si arriva anche da qua vero? va bene allora io ringrazio Walter Gagliano grazie per essere stato con noi capitano e fondatore del Nazionale Italiano dell'amicizia impegnato ricordiamolo sabato a Venaria dalle ore 14.30 in avanti Venaria per aiutare Bea grazie per essere stato con noi grazie a voi per averci ospitato e io invece do la linea alla regia per il proseguimento dei nostri programmi